Ciao creatura, io sono Eka Desplendente e benvenuta, bentornata, nel regno di Kozai ASMR. Sì, sono sempre truccato uguale, visto uguale, perché sto approfittando di questa giornata per farti tanti video, ma tanto a te importa che siano chit chat, quindi va bene così, giusto? Mi avete chiesto di parlare di Nikocado Avocado, che io chiamo Nikocado Avocado, perché mi piace di più, perché io cambio nomi alle persone e alle cose, tipo l'isola dei sussulti, che era l'isola dei sussurri. Insomma, cose così simpatiche sono nella mia testa, simpatiche sono nella mia testa, esatto. Comunque, allora, io non ho tutta questa grande esperienza nel averlo seguito, cioè io lo seguivo all'inizio e poi tante volte non ho capito perché alcune situazioni sono accadute. Comunque, vi do direttamente, come al solito, il mio punto di vista, vi faccio un breve riassunto di quello che so e poi, come al solito, ne parliamo nei commenti. Comunque, come sempre, dal mio punto di vista, non sto, non dico che il mio punto di vista sia la verità assoluta, è solo ciò che penso io che, con i miei occhi, quello che percepisco, ecco, dai video e da quello che una persona mostra nei social, ovviamente, non vivendo a casa con lui, non essendo dentro la sua testa, perché neanche vivendo a casa con una persona in realtà la conosci di 100%, non entrando nella sua testa, non sapendo i suoi pensieri, non posso dire qual è la verità 100%, ovviamente. Quindi, con la solita premessa, iniziamo, vediamo anche dei suoni. Allora, chi è? Chi è Nikocado Avocado? Per chi non lo sapesse, è un youtuber, credo, proveniente dall'Ucraina, che, quando l'ho conosciuto io, faceva ancora dei video mukbang normali, era magro, era un ragazzino, tranquillo, spensierato, sembrava così nei video. Il papagallino aveva un papagallino verde, che si chiamava noodles, e questa cosa era super cute, perché finché lui mangiava i noodles sconditi, a noodles il papagallino dava dei noodles sconditi, cioè solo cucinati, erano degli spaghettini senza condimento, solo cotti. E lui aveva il suo piattino, aveva il suo piattino, aveva la sua ciotolina, e mangiava insieme al suo amico Nikocado Avocado. E nei video così erano molto carini, perché appunto c'era il mukbang con il papagallino, erano molto cute, dal mio punto di vista. E insomma ho iniziato a vederlo, anche se non capivo quasi nulla di quello che diceva, ma non mi interessava, perché tante volte io guardo il mukbang così, perché mi rilassa anche, a differenza di altre persone, mi rilassa a vedere mangiare i suoni della masticazione, eccetera, eccetera, a me rilassano. E quindi poi mi faceva anche tenerezza vedere questo papagallino che mangiava insieme a lui, i noodles, poi si chiamava noodles, quindi c'era tutto così cute. E lui in quel periodo era vegano, e infatti mangiava molti avvocato, per quello forse aveva anche scelto questo nickname, questo nome d'arte. E secondo me, poi non so, però ha intuito diciamo che potrebbe essere così. E niente, alla fine succede qualcosa che non ho ben capito, perché qualcuno mi aveva detto che era sclerato, perché non ce la faceva più a mangiare solo vegano, e aveva deciso di tornare a un nivoro, ma già aveva anche dei problemi con il lavoro, o con il luogo dove si era trasferito, che penso si fosse trasferito in America, però non so in quale paese. Lui era un bravissimo violinista, però non so cosa sia successo, perché poi si è buttato solo su YouTube. Forse guadagnava più soldi così, e faceva meno fatica, non lo so. Comunque, il fatto sta che i suoi mukbang diventano sempre più esagerati, inizia a mangiare sempre più quantità di cibo, e cibo sempre più spazzatura, finché non lo vedi proprio che cambia, inizia a cambiare fisicamente tantissimo. diventando mega obeso, cioè non voglio fare un po' di shaming, però è letteralmente mega obeso adesso, cioè se tu vai a vedere Creatura, i suoi primi video, è un ragazzo normale, tra virgolette nel senso normo obeso, ecco intendo in quel senso, un ragazzo normo obeso. Adesso è arrivato al, cioè adesso lo vedi deambulare con quei mini scooter, tipo che hanno fatto vedere un video dove lui va a fare la spesa, ed ha una specie di quei mini scooter, che fanno vedere in America, dove le persone obese si spostano con il carrello davanti. Insomma, se tu non riesci più a muoverti, a camminare, a deambulare, per via del tuo peso, posso dire che tu sei mega obeso, lo posso dire che è body shaming, non lo so, comunque è veramente enorme. e quindi lì non so se è stato che c'è stato anche un periodo di depressione, qualcosa, perché io avevo intuito dai discorsi e anche dai video, insomma, dai commenti, tutto che c'è stato qualcosa oltre al fatto che più mangiava schifezze nei video e più mangiava tanto nei video, faceva più visuale, quindi più soldi. Tra l'altro lui non ha solo un canale, ne ha, mi pare, cinque, tutti così, e quindi non lo so cosa... se è stato tutto insieme o solo una di queste cose, probabilmente tutto insieme o se magari ho capito male io e lui semplicemente voleva fare più visuale, più soldi e ha iniziato a scegliere questa via poco sana per guadagnare soldi e fama, che però è una buona parte dei commenti nei suoi video sono di persone che gli dicono di smettere di mangiare, di, insomma, pensare alla sua salute, eccetera, eccetera, e l'altra parte invece sono persone che lo incitano a fare queste cose. In alcuni video e post di G aveva messo dei video e delle foto dove si era ridotto a respirare con un respiratore, perché non tant'è che era, da quanto era diventato enorme, non riusciva più neanche a respirare, probabilmente il grasso comprimeva anche i polmoni. Arrivato a quel punto lì, lui ha preso tanta paura, secondo me, finalmente, perché era ora, e ha iniziato a fare qualcosa per dimagrire. E mentre, prima che succedesse questo fatto, aveva ancora un profilo IG, che adesso invece è sparito, non so cosa sia successo, se gliel'abbiano bannato, o se lui abbia deciso di non stare più su questo social. Fatto sta che su su IG ho visto che aveva pubblicizzato il suo profilo OF, quindi aveva anche un profilo OF, dove metteva contenuti espliciti di se stesso e forse anche del suo compagno, che il suo compagno, anche lui, ha iniziato a fare video con lui che avevano un ormo obeso e anche lui, seguendo Nicocado Avocado, è diventato anche lui obeso, non ai livelli di Nicocado Avocado, però pure lui, pure lui, purtroppo, si è un po'... si stava, non andava bene, insomma, anche lui obeso. E ha fatto... io ho smesso di guardare i suoi video, perché faceva dei video estremi, non tanto per quando si appuffava di cibo, ma c'erano dei momenti che erano tra il cringe e lo schifo totale. Mi ricorderò sempre la scena che purtroppo non posso più eliminare dalla mia memoria, del cervello, di quando aveva, tipo, davanti a sé una montagna di noodles e delle uova, uova fatte, tipo, all'occhio di bue, tenerine, e il turlo un po' tenerino, no? E lui se le ha, tipo, spalmate in faccia. Credo sia lo stesso video nel quale lui si taglia i capelli e li butta sul cibo e poi piange e si spalma le uova in faccia. Credo sia lo stesso. Ecco, lui era arrivato a piangere nei video, fare queste schifezze, cioè buttare i capelli sopra il cibo e poi spalmarseli in faccia. Perché faceva visual, però comunque non so se erano sui scleri, se sclerava lui seriamente o se erano tutta finzione, però sicuramente non stava bene. Perché se anche era finzione, comunque, non stai bene a fare una cosa del genere e non sapeva più come attirare l'attenzione per fare visual e quindi, di conseguenza, soldi. E' andato proprio agli estremi, ha passato il limite e quindi non sapeva più cosa inventarsi. Ogni tre per due, quando faceva i mukbang con il compagno, litigavano, piangeva, facevano... piangevano entrambi, si davano dei colpi. Cioè, tipo, lo stai con l'idecata quella, tipo così. Erano tipo un po' violenti tra di loro. Io quando guardo i video mukbang, li guardo per rilassarmi, non per farmi venire nervoso. E quei video lì erano, uno, disgustosi, due, facevano venire nervoso. E soprattutto quello dei capelli mi ha fatto veramente disgusto, anche perché lui aveva delle... un'immensità di noodles davanti e sicuramente quelli poi non li ha mangiati nessuno e sono stati buttati via tutti. Quindi, secondo me, sprecava anche tanto cibo. Io non so se tutto quel cibo poi lo mangiava veramente. Poi ho iniziato a fare video anche con un'altra ragazza che anche lei inizialmente era magra. Però lei non la conosco. So solo attraverso i video di Nico Catovi, avvocato. La conosco attraverso i suoi video, quindi non chiedetemi parlare di lei perché non so niente. Comunque so che anche lei all'inizio era magra e poi è diventata mega, mega, mega pesa anche lei. E sono messi a fare questi video insieme, mangiandola qualunque, cioè strafogandosi. Quello che penso io è che... Vabbè, tutte le cose fatte con l'esagerazione non vanno bene. Non penso che ne valga la pena di rovinarsi la salute per le visuale i soldi perché questa persona rischia di morire per cosa? Per dei soldi che magari non ti sei neanche goduto perché sei obeso e non sai neanche camminare fuori dalla tua stanza, non riesci neanche a respirare e poi si è completamente umiliato, umiliato davanti alle... Magari lui non gliene frega niente però a me penserebbe tanto umiliarmi davanti alle telecamere che mi farebbe proprio sentire malissimo e invece c'è gente che lo fa tranquillamente per soldi e poi io non riesco a concepire queste cose da persona timida poi, figuriamoci, da persona che si fa mille paranoie anche no, non lo capisco. Cioè posso accettare che una persona lo faccia perché non gliene frega niente ma un conto è se è un attore che interpreta un personaggio e un conto è se è una persona che è davvero così perché se fosse stato un personaggio sarebbe rimasto magro si sarebbe truccato per fare la persona obesa e invece lui è proprio così è diventato così perché lui è così insomma e quindi è un po' diverso ai miei occhi se tu sei 24 su 24 così nei video, nelle live e tutto non puoi essere un personaggio e quindi non so quanto c'è secondo me non vale la pena rovinarsi la vita così per i soldi anche se sicuramente ne avrà guadagnati tantissimi probabilmente la fama, i soldi cambiano le persone come abbiamo visto succede anche con i canali grossi in generale anche nell'ambito ASMR però appunto c'è modo e modo ecco di montarsi la testa si può anche non esagerare così lui ha veramente sorpassato il limite e insomma sembra impattito impattito pur di fare le visual e fare soldi è sclerato totalmente adesso da quello che ho visto il suo G è sparito e non so se abbia ancora F perché io lo vedevo scritto nei suoi post quindi non lo so quello comunque è il minimo e da quello che ho sentito però in teoria sta facendo qualcosa per dimagrire sta un po' prendendo cura di sé però non sono sicura perché adesso non so in realtà attualmente io non seguendolo più perché appunto i suoi video mi danno proprio noia aveva anche cercato di creare dissing e fatto del male psicologico ad altri youtubers perché lui cercava sempre in tutti i modi di fare di attirare l'attenzione nel bene e nel male ma soprattutto nel male perché la sua forza diciamo erano gli haters quindi ormai lui si era creato questo personaggio antagonista sclerato sclerotico e tutto quello che vuoi e quindi faceva questi teatrini imbarazzanti cringe e cattivi anche per appunto attirare più commenti hating possibile al di là di quelli che poi altri erano quelli che lo incitavano e altri erano quelli che gli dicevano di smettere però lui si vede che su youtube lui era una macchina da guerra per fare soldi visual aveva capito che probabilmente creando questi teatrini faceva molti soldi ognuno decide di intraprendere sul youtube non tutti i creators puntano nel fare visual soldi alcuni preferiscono fare video a che gli piacciono altri invece quelli che vogliono fare i soldi a tutti i costi capiscono qual è la cosa che fa scatenare più commenti e lui insomma ha esagerato 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 finché non è arrivato a questi livelli poi mi avevate chiesto di parlare di un'altra persona che però non conosco e quindi sono andata a vedere un po' di video ma non mi dice niente non mi piace neanche guardare quindi non parlerò di questa persona io lui lo seguivo quindi più o meno so ho un punto di vista so sapevo di lui so dire qualcosa ma appunto di questo personaggio che da quello che ho capito era nato su tiktok tiktok non so dire nulla se non riportare qualcosa che magari ha detto qualcun altro su di lei quindi non per cattiveri ma non conoscendola non seguendola non mi piace neanche guardarla e da quello che ho capito è una persona che vuole dice che fa la dieta ma poi non la fa e però non so non mi ispira cioè io ho iniziato a guardarlo nico cado ho iniziato a guardarlo perché all'inizio mi piaceva come format e però poi appunto ho smesso perché non mi piace più quello che fa quello che dice è tutto così anche esageratamente finto o anche se è vero non mi piace non mi piace proprio e vorrei farti anche un video chit chat di canali non ASMR o comunque ASMR anche che guardo che non sono i video del cuore ma sono comunque canali che vado alla ricerca e spero che abbiano fatto uscire un video perché mi piace tanto guardarli alcuni magari sono più conosciuti di altri però credo che non siano neanche così tanto conosciuti dai miei followers fammi sapere se ti piace l'idea e allora facciamo un altro chit chat con questo argomento poi se vuoi altri chit chat dove parlo di persone o di argomenti specifici che non siano politica o religione perché se no meglio di no no politica no religione per il resto possiamo parlare se no mi banno youtube mi banno ok detto ciò possiamo gossipare però di personaggi che conosco perché altrimenti se no non so cosa dire e di argomenti insomma ce ne sono tantissimi sempre senza fare i nomi perché non voglio denunce anche se in realtà io dico il mio punto di vista e non cerco sempre di non offendere ed essere sempre sumeducata ecco nelle mie video e ok credo che di nicocado avvocato nicocato nicocato avvocato penso di aver detto tutto sì non so adesso che fine abbia fatto se tu lo sai fammelo sapere come al solito qui sotto in un commentino o anche a volte di qua ho visto o di qua no di qua perché ho visto anche con il tablet se apri i commenti a volte sono a destra a volte sono sotto al video quindi se vuoi fammi sapere se tu sei qualcosa se hai qualcosa da dire al riguardo io comunque penso che non valga la pena rovinarsi la salute per le visual e i soldi cioè meglio restare poveri in salute visto che la salute è la cosa più importante perché si manca quella già non esisti non riesci a fare niente è orribile quindi se hai la salute puoi fare tante cose se invece hai i soldi ma non hai la salute perché i soldi non possono comprare sempre la salute perché a volte non c'è se di morire devi morire anche non puoi comprare la tua non morte non sempre i soldi appunto possono comprarti medici cure medicina eccetera eccetera e quindi io sceglierei la salute più sui soldi però vabbè anche se dicono che i soldi non danno la felicità a me pare che stiano tutti sclerando per averne sempre di più e non si accontentano vabbè non voglio fare quella che ti vuole dare consigli di vita perché anche io non ho bisogno dei consigli di vita anche se comunque io al mio percorso non rompo le scatole a nessuno spero che questo video ti abbia fatto rilassare in primis e ti sia piaciuto ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura